Presentata questa mattina la diciassettesima edizione della gara ciclistica Gran Fondo Cassani che partirà il 17 marzo con più di 1500 partecipanti. Questa mattina la presentazione della Gran Fondo Cassani di che cosa si tratta? Si tratta di una manifestazione sportiva legata al mondo del ciclismo amatoriale che si svolgerà a Faenza il prossimo 17 marzo con un percorso lungo tutte le coline diciamo romagnole che tocca la provincia di Ravenna, di Forlì e anche di Firenze. È una partecipazione nutrita perché contiamo di avere almeno 1500 anche forse qualcuno in più di amanti della bicicletta. Questo percorso si svolge a due possibilità. È un percorso medio, è un percorso lungo che il medio diciamo che ha circa una lunghezza di un centinaio di chilometri mentre il lungo ha un percorso di 125 chilometri. Qual è la particolarità di questa corsa? La particolarità di questa corsa è che lo scopo per cui viene fatta è reperire risorse finanziarie per l'attività giovanile legata alle nostre società perché questa manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Corrada Zannoni in collaborazione con la Ceretolese di Bologna che svolga un'attività giovanile a livello di ciclismo e quindi è una forma per autofinanziamento per questa attività. A che edizione siete? E se ci sono delle differenze in quella di quest'anno? Siamo alla diciannovesima edizione e rispetto allo scorso abbiamo, diciamo così, sul percorso lungo abbiamo alleggerito leggermente le difficoltà per una questione anche e soprattutto che siamo alla prima gran fondo dell'anno e diciamo gli atleti sono un po' meno allenati e anche il tempo magari non dà la possibilità a loro di riuscire ad allenarci. Chi partecipa a queste gare? Come mai sono così numerosi coloro che aderiscono? Partecipa al mondo, diciamo, di tutti gli amanti della bicicletta che ci vogliono misurare nella lunghezza di questo percorso in maniera anche, diciamo così, agonistica per alcuni, mentre per altri è una maniera di vivere una giornata, diciamo, all'aria aperta e sperando di avere anche il tempo buono. Da dove vengono i partecipanti? I partecipanti sono generalmente, diciamo, della Romagna e dell'Emilia Romagna e quest'anno abbiamo una particolare in più che ci siamo legati a un circuito di gran fondo legato all'Italia centrale che è il circuito degli italici e infatti avremo una numerosa partecipazione di queste, diciamo, di persone provenienti dalle Marche, dall'Astria e dall'Umbria. Francesca Diletta per Firenze Web TV